Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del Saleva Mountain Trainer 2 da 28 litri, uno zaino pensato per escursione giornaliera di casa Saleva, uno zaino di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno di una recensione completa. Iniziamo come al solito parlando del peso. Questa versione da 28 litri pesa poco meno di un chilo, 980 grammi. Dico questa versione da 28 litri perché c'è anche la versione più piccola da 25 litri, naturalmente il peso sarà inferiore. Iniziamo come al solito ad analizzare lo schienale di questo zaino. Schienale tecnologia dryback di casa Saleva. Tecnologia dryback che avevamo già provato su un altro zaino di casa Saleva e che io non mi avevo convinto, e anche in questo caso non mi convince. Non mi convince perché praticamente la schiuma con cui è fatto lo schienale tende ad assorbire il sudore e fa fatica a espellerlo. Quindi cosa succede? Che nel momento in cui noi andiamo a sudare tanto, questa schiuma andrà a impregnarsi di sudore e non si asciugherà. Questo vorrà dire che praticamente arrivato a un certo punto avremo lo schienale dello zaino completamente bagnato. E se anche noi magari riusciremo ad asciugarci per un po' di vento, un po' di sole, lo schienale resterà bagnato e quindi ci zupperà direttamente lui. Quindi questa tecnologia dryback di Saleva non mi convince. Aspetto positivo però è la stabilità di questo zaino, perché essendo uno schienale a diretto contatto con la nostra schiena, cosa succede? Che il carico è veramente molto molto stabile. Cioè sembra più uno zaino d'alpinismo per la sua stabilità rispetto a uno zaino da trekking. Però resta il fatto che essendo proprio così attaccato alla nostra schiena ci fa sudare tantissimo. Essendo questa tecnologia dryback poi presente anche nella parte inferiore sulla fascia lombare, vi racconto che anche la fascia lombare tende a far sudare parecchio. Sulla fascia lombare nella parte di destra poi troviamo una taschina dove andare a riporre telefono, qualche barretta, comunque piccoli oggetti. E nella parte di sinistra invece troviamo una fettuccia dove andare a mettere magari un rinvio, un moschettone comunque del materiale. Fascia lombare che comunque lavora bene per quanto riguarda lo scarico del peso. Possiamo portarci secondo me fino a 6 kg, 7 al massimo senza tanti problemi. E anche la chiusura sulla parte anteriore con la clip lavora bene, anche a pieno carico non si apre, non si rompe. E mi piace che possiamo far su il cordino per evitare che si sballonzoli davanti quando camminiamo. Per quanto riguarda poi lo spallaccio, questo ha la tecnologia di saliva che praticamente lo spallaccio è diviso in due. Mi piace perché comunque lo spallaccio la aderisce molto bene alla nostra spalla, non abbiamo punti di pressione, quindi anche a pieno carico non ci fa venire male alle spalle. E mi piace allo stesso modo anche perché ci dà una gran possibilità di movimento. Per intenderci, quando dovremo andare magari a piegare una corda, riusciamo a piegarla senza avere gli spallacci che ci intralciano. Quindi spallacci che mi piacciono molti, questi qua di calastra leva. E naturalmente la parte anteriore troviamo la possibilità di andare a richiudere la cinghia pettorale. Questa però non presenta un fischietto. Non so come mai non ci sia, boh, se lo saranno dimenticati. In conclusione, per quanto riguarda questo schienale, come vi dicevo, a me non piace. Davvero questa tecnologia dryback magari ci può stare su uno zaino d'alpinismo, quello sì, ma non su uno zaino da trekking. Continuiamo ad analizzare lo zaino parlando della prima parte laterale. Qui troviamo una tasca nella parte inferiore dove poter andare a riporre la borraccia. Riusciamo sia a riporla che a prenderla in autonomia. Abbiamo una fettuccia nella parte inferiore per chiudere o la borraccia o comunque chiudere lo zaino. E poi troviamo questa cinghia triangolare nella parte superiore, veramente molto molto interessante. Innanzitutto vi dico che è apribile perché c'è una clip che si può aprire. Ed è interessante perché se abbiamo lo zaino particolarmente vuoto, con questo possiamo andare a tirare completamente lo zaino e renderlo molto più piccolo per utilizzarlo anche praticamente da mezzo vuoto. Inoltre, nella parte finale della clip qua in alto, abbiamo la possibilità di andare a riporre il nostro bastoncino perché qua in basso c'è la fettuccia dove andarlo ad incastrare. Possiamo portare in questo zaino due bastoncini perché la fettuccia c'è anche dall'altra parte e poi vi faccio vedere dopo che dall'altra parte c'è anche la possibilità di inserire una piccozza. Sempre da questa parte troviamo poi inoltre una cerniera che possiamo andare ad aprire e che rivela una tasca qua nella parte anteriore dello zaino in cui possiamo andare ad inserire oggetti tipo una cartina. Niente di troppo spesso perché sennò non ci starebbe. Continuiamo, continuo a girarvi lo zaino. Arriviamo a parlare della parte anteriore dove c'è la chiusura dello zaino. Qui non c'è praticamente nulla se non le fibie dove andare ad inserire il gancio per chiudere la parte superiore dello zaino. Queste fibie però possiamo sempre utilizzarle magari andando a aggiungere un moschettone e portarci qualche materiale in più. Nessuno ce lo vieta. Continuo a girarvi lo zaino. Arriviamo a parlare della parte di destra. Come vi dicevo qua in basso abbiamo la possibilità di andare a riporre la nostra piccozza quindi due bastoncini più la piccozza. Inoltre, aspetto che mi piace molto, troviamo una cerniera che possiamo attirare praticamente fino alla parte superiore dello zaino per andare a recuperare il materiale posto all'interno nella parte inferiore. La trovo veramente super efficace perché posso andare a prendere qualcosa messo nella parte bassa dello zaino senza doverla svuotare completamente. Quindi questa cerniera la trovo veramente molto molto utile. Continuando poi a girarvi lo zaino, la parte di destra è praticamente uguale a quella di sinistra quindi tasca per la borraccia con la sua fettuccia per richiuderla in basso tasca triangolare, anche lei apribile, con la possibilità di andare a sedire, come dicevo, il bastoncino. Continuo parlandovi del materiale di questo zaino. È fatto in un nylon ripstop 210. Questo mi piace molto perché essendo uno zaino sia da trekking ma pensato anche per la via ferrata se dovesse andare a strusciarlo contro qualche roccia lo zaino non si andrebbe a rompere. Io l'ho strusciato contro diverse rocce, ve lo assicuro, e lo zaino è ancora completamente integro. Non ha davvero nessun problema. È uno zaino sicuramente duraturo. Arrivando poi a parlare della parte superiore troviamo un cappuccio veramente molto molto semplice in cui all'interno c'è una tasca dove andare a riporre qualche oggetto la chiusura sua davanti con la fibia come vi avevo detto prima e basta. Per quanto riguarda invece la chiusura in sé della sacca dello zaino classica, tirando il cordino si chiude, tirando le fibie laterali si apre quindi nessun problema. Lo zaino naturalmente è la sacca unica ma questo avendo la cernia laterale per riprendere gli oggetti diciamo che non è un problema. Passiamo a parlare del comparto acqua. Come vi dicevo possiamo portare due borracce nelle due tasche laterali c'è la possibilità di mettere dentro una vescica tipo camelback con la possibilità di far uscire il beccuccio sul davanti per bere e infine troviamo nella parte inferiore un rain cover da andare a mettere sopra lo zaino in caso piovesse. Attenzione che il rain cover è un po' cortino, un po' tirato quindi se abbiamo all'esterno qualche materiale non andrà a coprirlo. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo saleva mountain trainer 2 da 28 litri. Ve lo consiglio? No. Sinceramente no. Il motivo è dello schienale perché davvero con questo zaino suderete tantissimo. A mio parere può aver senso magari nella stagione invernale dove magari si tende a sudare di meno perché fa un po' più freddo quindi lì ancora ancora ce lo vedo bene. Ma per quanto riguarda l'utilizzo in mezze stagioni che ormai in mezze stagioni comunque fa caldo come in estate ed anche l'estate vi assicuro meglio di no. Cerchiamo qualcosa di più traspirante perché davvero con questo zaino vi farete delle sudate incredibili. Infine quanto riguarda il prezzo prezzo ufficiale di saleva 180 euro l'inno si trova in giro a 130 più o meno secondo me il prezzo è consono rispetto alla qualità dei materiali che andiamo a comprare e comunque tutta l'ingegnerizzazione e tutto lo studio fatto da saleva. Detto ciò ragazzi io ne ho speranza sia stato esattamente esaustivo anche per questo video vi ringrazio per l'ho guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!